E la storia dell'uomo lo dimostra. L'uomo è stato capace di distruggere i dinosauri. Pensa un po' se non è capace in questo caso di distruggere quel piccolo maledetto verme, microbo, che si chiama coronavirus. Nuovo gameplay brutto brutto brutto. Ce la farete a battere il mio record. Vi lascio il link in descrizione, così potrete giocarci anche voi. Condividete il video se vi piace e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima. Grazie! 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 Guadeffective! Guardare! Grazie! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.